Un saluto da dottor Palmas, ti parlo oggi degli impianti basali che permettono di rimettere i denti fissi senza osso anche a tutti quei pazienti a cui hanno detto che non si poteva più fare nulla per rimettere i denti fissi sia nella mascella superiore che quella inferiore. Seguimi perché ti do molti consigli su come evitare di incappare in chirurgie che possono essere più o meno deludenti. Quelli che vedi qua sono dei modelli che ti mostrano come vengono realizzati gli impianti per mascelle completamente atrofiche che permettono di rimettere i denti fissi anche in quelle condizioni di completa assenza di osso. Qua vedi prima di tutto un dettaglio ovvero questi impianti vengono avvitati sulla corticale ossea residua sarebbe la parte esterna dell'osso riassorbito e vengono avvitati per mezzo di viti da osteosintesi che sono da decenni utilizzate nei dipartimenti di chirurgia maxillofaciale. Fai attenzione perché esistono anche delle tecniche di posizionamento di denti fissi su impianti in questo caso si chiamano sotoperiostei o iuksta ossei che non hanno, non prevedono queste viti ma vanno a incastro sull'osso. Come ti ho già detto anche su altri video fai attenzione perché quelle tecniche non garantiscono poi un risultato sul lungo termine.